Joe, JoeVax, sono JoeVaxful Le fottutissime imprese dello sciacallo JoeVax Presto lo trasformeranno nel boss dei videogame Stai cercando del divertimento puro Stai con Joe, JoeVax, sono JoeVaxful Ciao ragazzi, eccoci sono qua con JoeVaxful E questo è un nuovo video gameplay Si tratta di Batman Il gioco appena è uscito Andiamo subito a fare storia E facciamo nuova partita Non ho ancora giocato per niente Vediamo un po' difficoltà normale Ok, sottotitoli si Suggerimenti si Luminosità, penso che vada bene Facciamo inizio a partita ragazzi Spero vi piaccia questo gioco Non l'ho provato ancora per nulla E intanto qui ci fa vedere un video Che purtroppo penso dovrò tagliare Tra pochissimissimissimo Facciamo salta Esattamente ragazzi Dobbiamo saltare perché se no mi becco i strike da YouTube Ecco qui il nostro Batman Maschera nera deve essere entrato nella prigione da qui Devo trovare il commissario Lob prima che sia troppo tardi Ok Obiettivo primario Dobbiamo Trovare un personaggio Con Wazd si cammina Con CTRL sinistro si Premuto ci si abbassa Ok Ok qualcuno sta parlando Tieni spazio per correre Perfetto Qui ci sono i morti Oh attenzione Ma prima di allora Quello che non sarà l'unica cosa Che ti mancherà Cos'è Ci avviciniamo Oh 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 Contrattacco Contrattacco Direi che ragazzi Che è veramente fenomenale Mi piace moltissimo Questo inizio Così Alla Batman Con mistero E altro Anche le voci sono Fenomenali Ok stiamo cercando Informazioni Parla con il direttore Joseph Oppure andiamo via Rintraccia commissario Andiamo un po' Abbo visualizza un filo di personaggio Blocco di detenzione Ok siamo in un carcere Ragazzi Sembrerebbe Ci ne sono anche molti Di prigionieri Qui c'è la calza di Natale Dove dobbiamo andare Però Ok scendiamo qua sotto Apri la porta con spazio Ok possiamo solo aprire la porta Ok Ora penso che dovremmo Veramente combattere E facciamo subito Attacco Contraattacco Contraattacco Ah un sacco di gente Di picchia qui Non so la nostra La nostra La nostra energia Quanto è Non mi dice nulla Non muoiono mai ragazzi Non muoiono Non muoiono Muori Interroga Interroga Oh ok Interrogo Interrogo Mossa intelligente Fatti un sonnellino Attenzione Cattiveria pura di Batman Accedi alla camera delle esecuzioni Abbiamo sconfitto questi nemici carcerati Vediamo un po' qui Ma qui hanno aperto Questa cella Vigilante Straordinario Livello C Non abbiamo fatto molto bene Però vabbè Comunque è un gioco Veramente la grafica Mi piace molto E anche Diciamo la sceneggiatura Tra virgolette Ah così si salta Sempre con lo spazio Non so come Vabbè Facciamo così Qui si apre da solo Vediamo un po' Salvataggio E questo che è Quatricottero Un drone Che dovrebbe essere qui Andiamo un po' Corriamo Corriamo Conseguiamo Oh Attenzione Quanta gente Contraattacco Contraattacco E picchialo Contraattacco Contraattacco Mena mena Oh Fantastico E potentissimo Ragazzi Con il Contraattacco Schiva E Mena In una maniera Incredibile Guardate Attenzione Fantastico Spero che si senta Egregiamente Sono muerti 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 Ok Ora Oh il rampino Guardate che fantastico Gagliardo Wow Batman Qui si apre Un nuovo Canciello Qui sono Sconfitti I poliziotti Cos'è? Oh mio dio Cos'è? Cos'è veramente? Sembra una specie Di lizard Che roba è? Sei impazzito E parlare così Che ti ha fatto finire In questo guaio Ehi Lascia stare il poliziotto Castardo Picchialo Picchialo Indossa una corazza Picchialo Picchialo Pestaggio Doppio Ah Quindi anche la rotellina Wow Con la rotellina Anche si mena Ora che dobbiamo fare Dobbiamo usare il rampino Ancora Con la F Ah è ancora vivo Oh Pezzo di Pezzo di Pezzo di E muori Pezzo Picchialo 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 Ah con la rotellina Cambia anche Fumogeno Sequenziatore Criptografico Battarine Telecomandato Artiglio E muori Muori tu Muori Penso che ora Si levi Dalle scatole Perfetto Rampino Con la F E andiamo avanti Pensavo l'avevo sconfitto La prima volta Invece Era un osso duro Qui cosa c'è? Ah uno studio Diciamo un ufficio Questa parte invece Ah Le foto segnaletiche C'è qualcuno che parla X Facciamo visuale detective Ah ok Per fare la Visuale In questo modo Come ci pare a noi Qui cosa dobbiamo fare? Ah Probabilmente dobbiamo Perlustrare Ok Dobbiamo capire un attimino Che cosa fare Forse se usiamo Il rampino Da qualche parte Lì Magari Facciamo un po' La F Così No Oppure Ehi la C'è nessuno Cosa dobbiamo fare? X X X Apriti Sesamo Mi sono già bloccato Sono un fenomeno Apriti sesamo Salvataggio Ok A parte scherzi Apritmi Aprite Io sono sicuro Che devo fare qualcosa Lì Oh Veramente Finalmente Vedete che avevo ragione Dovevo Ah ok Dobbiamo correre E Premere CTRL Per scivolare Perfetto Eh picchiali Picchiali tutti Oh Mi hanno colpito Contraattacco Perfetto Batman è veramente Fenomenale Una potenza incredibile Attenzione Calci rotanti A la Profilo personaggio Sbloccato Biggy Vale Tab Per visualizzare Oh guardate purellino Ti prego Non voglio problemi Abbiamo un po' qui Possiamo parlarci? No Non credo Ok Qui che c'è? Niente di che Dobbiamo andare avanti Avanti Qui Ah spazio usa Ok Scusa Non lo faccio più Non ti meno più Non ti Non ti meno più Andiamo Il punto del pavimento È indebolito Potrei sfondarlo Con il gel esplosivo Il gel esplosivo Eccolo qui Ok Dobbiamo fare così Per pre... Ok Spruzza Dove sul pavimento Ha detto? Ok Wow Adesso Fai esplodere Con la rotellina Aspetta Spazio salino Aiuto Ah ok Perfetto Dobbiamo tenere premuto Il tasto sinistro del mouse E cliccare la rotellina Ora un altro passaggio Cazzuto Di video Oh Oh Grazie La faccenda si fa interessante Ragazzi abbiamo visto L'uomo mascherato L'uomo mascherato E ora Sta liberando Tutti i suoi amici Noi dobbiamo uscire da qui Non so come Qui cosa c'è? Non c'è nulla Ok qui Apri spazio Perfetto Spazio apri Dobbiamo premerlo più volte Per fare questa azione Perfetto Dobbiamo fare CTRL Andiamo avanti Andiamo un po' In queste tubature Cosa la troviamo? Ok Ok Ora possiamo piombare Dall'alto Verso di loro Wow Fantastico Attacco dall'alto Contraattacco Gomitata Fenomenale Wow La schivata ragazzi Se riuscite a fare il contraattacco Quando si accendono Quelle lucette blu Sulla testa degli avversari Riuscite a fare una cosa Portentosa Veramente Guardate Gli bloccate qualsiasi Attacco facciano Ecco Magari Se non mi metto A minare al muro È meglio Di tanto mi fisso Così Attenzione Cazzottone Gancio Sul muso Dell'avversario Che gare a terra Inesorabilmente Non so da quanto sto giocando Dovrei un attimino vedere Qui c'è l'uomo mascherato Attenzione Come faccio ad arrivarci però Andiamo un po' da questa parte Sembra un'atmosfera Lugbre Porta chiusa chiave Allora vediamo Ragioniamo bene ragazzi Se uso il F qua Qui 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 non posso Allora lì Sono arrivato da lì Da sopra No Ok Facciamo allora così Allora qui Soltanto la cella E qui Se facciamo il gel esplosivo Non credo che funzioni E il rampino Dove possiamo usare il rampino? Seleziona il batter tea Batter tea No Dove dobbiamo andare? No No